e guarda ieri ho seguito i funerali in diretta così tramite i mezzi che ci permettono di fare questo si è vissuto in momenti di grande commozione è stata una cerimonia molto semplice proprio anche in virtù del tipo una tipologia di famiglia di persona che erano e dell'ambiente in cui ha vissuto questo ragazzo ma nello stesso tempo e bisogna ripartire sempre bisogna ricominciare ma è così per tutti per cui quello che effettivamente mi sta a cuore nel senso di sarebbe bello mantenere comunque questo ragazzo come modello come riferimento per tanti giovani per tante situazioni che a volte vengono magari effettivamente così con molta leggerezza vissute per cui probabilmente è stata una bella testimonianza sofferta però fa parte del vissuto e come tale deve rimanere però bisogna guardare avanti insomma sappiamo che avremo un carico di partite in pochi giorni 4 in 10 giorni mi sembra o in 12 giorni poi 6 in 18 giorni però ecco diciamo da domenica in avanti sicuramente c'è una situazione così compressa effettivamente che nessuno si aspettava però credo che a questo punto del campionato bisogna raccogliere le proprie energie le proprie le proprie motivazioni e riuscire comunque al di là magari di qualche inconveniente fisico situazione di stanchezza che sicuramente si verificheranno in queste in questi in questo percorso riuscire a fare a dare il meglio di noi stessi questo è il nostro obiettivo diamo sempre con la mentalità di giocarci la partita ultimamente vogliamo sempre proporre un po' quello che vogliamo che non sono i nostri obiettivi dimostrare che siamo una squadra comunque da trasferta comunque siamo una squadra che non è più una squadra tanto battibile fuori casa nello stesso tempo sappiamo anche che troviamo un cesena che viene da quattro risultati utili consecutivi che è una squadra che ha ritrovato la sua identità e certi suoi giocatori per cui all'inizio del campionato tutti pronosticavano questa squadra come la possibile rivelazione penso che neanche loro si aspettassero un campionato del genere per cui sappiamo sicuramente di trovare un avversario comunque motivato anche se penalizzato dalla classifica e questo non ci deve sicuramente distrarre quello che ti ho detto prima è che dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo ultimamente in trasferta e niente cercare di mantenere questa crescita e consolidare